Dopo un anno di attività di consiglio direttivo, si può già fare un bilancio di cosa è successo e di quali obiettivi sono ancora da raggiungere? Dopo tanti anni in AICE, un po' ho provato da non partecipare perché ero magari di quelli che più criticavano senza poi esprimere un'attività vera, mi candidò l'anno scorso proponendo prima di tutto questa attività verso l'elevazione della qualità dei laboratori o la garanzia della qualità dei laboratori, venni eletto ed ora ho, nonostante la difficoltà perché è un lavoro in più che si ha da fare e soprattutto in quello che è stato il periodo estivo perché la preparazione di tutto quanto vediamo oggi e domani ci ha costato molto, però ho la soddisfazione di aver contribuito in maniera paritetica allo stesso livello di propositività, di discussione, di partecipazione con i miei colleghi, con i miei pari e credo di poter aver dato un buon contributo che spero che si maturi ancora di più nei risultati dopo la fatica iniziale.